Ben trovati alla terza edizione del TG6. In apertura le scosse di terremoto che hanno fatto tornare la paura nell'Aquilano e in particolare nella zona di Campotosto. Scosse avvertite all'Aquila città ma anche nei piccoli comuni della Valle dell'Aterno di cui abitanti sono scesi in strada impauriti dal sisma. Allora vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Una nottata movimentata per i cittadini dell'Aquila e dintorni. Due scosse avvertite distintamente fanno tornare la paura. Ad essere ancora una volta coinvolta la zona di Campotosto, comune già duramente colpito dagli eventi sismici dello scorso gennaio. La prima scossa si è verificata ieri sera alle 20.45. La magnitudo registrata dai sismografi è stata di 3.3. L'altra ancora più forte ha dato il buongiorno stamane alle 6.45 ed è stata di magnitudo 3.9. In mezzo a queste tante repliche minori, alcune avvertite, altre no. Scosse avvertite distintamente all'Aquila, dicevamo, ma anche nella Marsica e nel Terramano. Scosse avvenute ad una profondità maggiore rispetto a quelle che di solito interessano la catena penninica. Il terremoto è stato avvertito bene in tutti i centri dell'Alta Valle dell'Aterno, in particolare a Montereale e Capitignano, dove domani sarà in visita il premier Paolo Gentiloni per l'inaugurazione di una scuola. Tanta paura ma niente danni. In questi centri tante persone si sono riversate in strada. Ancora attivi dei focolai nella parte alta del Colle delle Vacche sul Monte Morrone dovuti alla spessa coltre di materiale combustibile ammastatosi come conseguenza di una slavina di qualche anno fa che non rende del tutto efficace l'operato dei Canadair a renderlo noto il comitato operativo misto di Sulmona facendo il punto dell'incendio che per due settimane ha seminato distruzione nel parco della Maiella. Ieri alcuni fumaioli sono stati spenti con i voli dei Canadair e dell'elicottero e dei Vigili del Fuoco ed è stata proseguita l'azione di smassamento del materiale. È proseguito anche il rilievo termico con una termocamera da parte dei Vigili del Fuoco per determinare le aree interessate dagli incendi. Il Com sottolinea che rimane la raccomandazione di lavare accuratamente frutta e verdura. Sempre posizionate le tre centraline che rilevano la qualità dell'aria a Prezza, a Pacentro e a Marane, case nuove. E continuiamo con la cronaca. Il giallo di Montereale, l'autopsia conferma l'ipotesi avanzata dagli inquirenti. La donna tenuta nascosta in casa dal figlio per tre mesi è morta per cause naturali. L'uomo aveva continuato ad incassare la pensione dell'anziana madre, ora indagato per truffa, aggravata e occultamento di cadavere. La donna di Montereale, di 92 anni, ma falda di Cesare, trovata dai carabinieri in stato di decomposizione dopo essere stata nascosta dal figlio Angelo Treniforti per mesi, è morta per cause naturali. Dunque non cambiano i capi di imputazione per l'uomo. Questo l'esito dell'autopsia disposta dal magistrato per far luce sulle cause della morte della donna di Busci, frazione di Montereale, nell'Aquilano. Un caso che nel comune dell'Aquila ha fatto tanto parlare. Quando i militari infatti hanno fatto irruzione nella casa, hanno trovato in uno sgabuzzino il cadavere della donna sotto ad un lenzuolo. Il figlio ha da subito ammesso, dopo essere stato ricoverato a San Salvatore per aver ingerito ansiolitici alla vista dei militari, di aver continuato a nascondere per mesi il cadavere dell'anziana madre per incassare la pensione. Lui infatti viveva con la madre, nella casa di proprietà della donna. L'ufficialità arriverà più in là, ma l'ipotesi che fosse stato l'uomo ad uccidere la madre era stata scartata subito dagli inquirenti. Angelo Treniforti è stato indagato dunque a piede libero per occultamento di cadavere e truffa aggravata. L'esame autoptico effettuato dall'anatomopatologo Giuseppe Calvisi ha anche dimostrato che la morte risale a circa tre mesi fa. L'uomo di 64 anni pensionato incassava una pensione minima, per cui alla morte della mamma ha pensato bene di mettere in scena questo macabre o teatrino, a dare l'allarme alle tre sorelle dell'uomo che non vedevano la mamma da tempo, a detta loro, a causa dei cattivi rapporti con il fratello stesso. Allertati dai carabinieri, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagna dell'Aquila hanno fatto eruzione in casa, scoprendo il cadavere della donna e sequestrando ovviamente l'abitazione. Ancora una notizia di cronaca, arrestato l'aggressore di un turista tedesco 22enne che il 10 agosto scorso era stato malmenato mentre stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni connazionali in uno stabilimento della riviera pescarese. In manette è finito un ventenne regbista originario di Roma apposto ai domiciliari con l'accusa di lesioni volontarie. Uno sguardo malinterpretato avrebbe scatenato la reazione del giovane capitolino con il turista tedesco che è stato ferito in modo serio e trasportato in ospedale con trauma cranico e fratture al volto giudicate e guaribili dai medici in 60 giorni. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico arrivano le raccomandazioni della ASL di Pescara ai genitori dei bambini che torneranno sui banchi per quanto riguarda le vaccinazioni. La direzione generale invita a presentarsi in ospedale per vaccinarsi e consultare il sito per tutte le informazioni del caso. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Le raccomandazioni sono soprattutto queste. Andare sul sito della ASL dove c'è un'apposita indicazione per le vaccinazioni e dove spiega come poter ottenere le certificazioni delle avvenute vaccinazioni per via telematica e dove è spiegato come si può avere una prenotazione per completare o per fare tutto il ciclo delle vaccinazioni quando queste non siano state fatte. Nel sito della ASL c'è anche una tabella che spiega a seconda dell'età del bambino o della bambina e quindi per l'accesso alla scuola cosa, che tipo di vaccinazioni deve aver fatto e con che scadenze. Invito tutti a cercare di andare sul sito, a cercare di seguire questa strada in modo da non venire inutilmente con un grande disagio, perché inutile dire c'è un grande disagio da parte dell'utenza, perché dovrebbero venire qui solo nel momento in cui debbono fare fisicamente la vaccinazione. Tutte le altre cose, la prenotazione della vaccinazione o l'utilizzo della modulistica per l'autocertificazione lo possono fare per via telematica. Penso che tutti voi sappiate che i decreti legge per essere convertiti in legge possono essere modificati e finché le regole non sono chiare dare indicazioni alle persone e poi dover fare una conferenza stampa il giorno dopo, per dire non sono valide, serve solo a creare confusione. E penso che di confusione ce ne sia fin troppa. Le sedi IMSS di Penne, in provincia di Pescara e Sulmona, in quella dell'Aquila, non saranno declassate. Lo ha annunciato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso che ieri pomeriggio è stato a Roma ed ha incontrato il direttore generale dell'IMS Gabriella Di Michele per affrontare le due posizioni dopo le preoccupazioni sollevate dalle amministrazioni comunali interessate dal provvedimento. Secondo il DG Di Michele, Penne continuerà a rimanere sede di agenzia territoriale con sei dipendenti interni con contestualmente il potenziamento dei servizi e l'inserimento di alcune prestazioni come quelle effettuate in loco delle visite delle commissioni mediche per l'invalidità civile. Restiamo sempre a Penne dove sabato scorso si è svolta una manifestazione organizzata dal comitato che si batte per la salvaguardia dell'ospedale San Massimo. Una catena umana ha simbolicamente abbracciato il presidio di Penne. Andiamo a vedere insieme il servizio di Vestina News. E' cominciato con l'intonazione del silenzio militare. Davanti a più di mille persone l'iniziativa Abbracciamo l'ospedale di Penne. Indetto dal comitato spontaneo dei cittadini Salviamo l'ospedale di Penne. Silenzio militare perché secondo il comitato non ci sono più le parole per commentare quello che sta accadendo al nostro comio Vestino e si dicono pronti anche una raccolta firma per costituire un referendum regionale. Il corteo radunatosi in piazza Santa Chiara dove un tempo era presente la sede di una delle scuole infermieristiche migliori d'Italia ha formato una sorta di catena umana fino all'ingresso del vecchio ospedale e mano nella mano simbolicamente hanno abbracciato l'ospedale di Penne. La decisione del Tribunale amministrativo regionale non ci ha sorpresi sappiamo che è un organo fortemente politicizzato e quindi ci aspettavamo anche questo risultato sicuramente sarà proposto appello a questa sentenza e poi vedremo se esperire anche un ulteriore tentativo presso la Corte Europea di Giustizia. Oggi c'è questa bella iniziativa organizzata dal gruppo Salviamo l'ospedale di Penne di fare questa catena umana per abbracciare l'ospedale che è un ospedale che viene sottovalutato purtroppo dalla regione perché in realtà questo è un ospedale che difende la salute di 50-60 mili ma oltre anche un numero ulteriore di cittadini. Io sono qui come cittadino dell'area Vestina perché io sono anche un potenziale utente di questa struttura e quindi voglio che questa struttura sia in grado di garantire la salute a tutti quelli che si potranno trovare in difficoltà. Ed ora torniamo a Pescara. Polemiche per la sede staccata del liceo scientifico Da Vinci in Piazza Grue. I consiglieri di centrodestra attaccano comune e provincia per i ritardi sui lavori all'interno dell'edificio mentre alcuni genitori e studenti sono a lavoro per il trasloco degli arredi. Andiamo a vedere. Il centrodestra contesta il ritardo dei lavori per la sede staccata del liceo scientifico Da Vinci di Piazza Grue a Pescara a quattro giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico evidenziando lo stato dell'edificio. Purtroppo il quadro è estremamente desolante, questa è la situazione. L'inizio della scuola è previsto per sabato 9 di settembre. L'aggiunta Alessandrini si è caricata questa problematica che è una problematica di competenza della provincia di Pescara però evidentemente non ha fatto bene i conti i conti con la tempistica dei lavori e soprattutto con l'inizio dell'anno scolastico. Anno scolastico che inizierà, ripeto, fra tre giorni e i ragazzi purtroppo non avranno né i banchi né tantomeno le aule dove sentire e ascoltare le lezioni dei propri professori. Un grandissimo disagio per la scuola, un grandissimo disagio per gli alunni, un grandissimo disagio per i loro genitori visto che sono previsti con estrema probabilità i doppi turni al liceo scientifico Da Vinci su Ai Colli. E intanto alcuni genitori e studenti sono al lavoro anche questa mattina per rendere la struttura idonea ad ospitare gli studenti criticando nel contempo la conferenza dei consiglieri di centrodestra. Ci hanno chiesto un contributo. Siamo qui per aiutare i ragazzi a mettere in condizione di studiare. Non chiediamo i grattacieli con le vetrate su New York. Noi chiediamo di farli studiare. Non è un problema per me assolutamente politico. Voi avete sollevato un problema politico. Allora questo problema l'andate a sollevare in altre sedi. Se permettete, perché voi siete politici e io sono un lavoratore. È una situazione del dolante, lei converrà con me, che fra tre giorni inizia la scuola. Che stanno cercando di rimediare, chi in un modo, chi in un altro. Ovviamente ci sono delle competenze ben precise che vanno rispettate. Io non mi sono permesso di entrare nella struttura. Ho detto ragazzi se vi serve una mano metto a disposizione un mezzo. Qualcun altro farà qualcos'altro. I ragazzi come vedete ne sanno una quindicina che cercano di assicurarsi l'inizio della scuola nel migliore dei modi per quella che è la situazione che noi stiamo vivendo. Per il resto aspettiamo. Stiamo facendo il processo all'intenzione. Vedremo fra dieci giorni cosa succede. Se ci saranno problemati le saremo tutti assieme a manifestare. Sia tranquillo. Però al momento siamo nella condizione di non perdere tempo adesso qui a fare conferenze stampe, ma siamo nella condizione di prendere questo materiale, portarlo, tornare, prendere l'altro materiale e riportarlo. Tutto il resto in questo momento per noi è relativo. Quindi se a voi fa piacere ci date una mano. Noi siamo ben lieti. Andiamo avanti e adesso andiamo all'Aquila dove sono partiti i lavori in centro a Palazzo Margherita, storica sede del Comune. A dieci mesi dal taglio del nastro le imprese possono così iniziare i lavori per riconsegnare alla città il Palazzo. Ci vorranno almeno due anni per quanto riguarda quello che è uno spaccato di vita importante per il capologo di Regione. Vediamo il servizio. A dieci mesi dalla consegna del cantiere di Palazzo Margherita, con tanto di taglio del nastro da parte delle autorità, sono partiti questa mattina finalmente i lavori del Palazzo. Palazzo in pieno centro storico, storica sede del Comune dell'Aquila. L'associazione temporanea di imprese, composta da Samoa, Sepe Costruzioni e dall'Aquilana Digimastri Costruzioni, che si è aggiudicata la gara da oltre 11 milioni di euro, finalmente potrà avviare tutte le opere necessarie per riportare il Palazzo Comunale all'antico splendore. L'intervento, come è noto e che durerà circa due anni, è finanziato in parte dalla BCC Roma per 1 milione e 500 mila euro, in parte dalle BCC italiane per 5 milioni di euro. La restante parte di finanziamento è compresa nel Decreto 24 del 2010 del Commissario Delegato alla Ricostruzione. Ritardi eccessivi per Palazzo Margherita, sicuramente, sia legati ai sottoservizi, ma anche alla burocrazia, che ha imposto la verifica del progetto da parte di una società esterna al Comune, poi la validazione da parte del RUP e ancora la convenzione con il provveditorato alle opere pubbliche e infine l'approvazione del progetto stesso. Il gioco è fatto, se non fosse che è stata insomma necessaria, una nuova determina che ha allungato di molto i tempi. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo a Lanciano. Grande successo per la settimana medievale che si è conclusa con l'evento clou, cioè con il Mastro Giurato. Vediamo il servizio. Il corteo storico con l'investitura del Mastro Giurato ha concluso la 36esima edizione dell'evento che richiama a Lanciano migliaia di spettatori. Non solo l'appuntamento clou di domenica 3 settembre, anche la Rocca del Mastro Giurato, con la settimana medievale ospitata nel complesso delle Torri Montanare, ha riscosso notevole apprezzamento di pubblico a dispetto di tutti i problemi della vigilia legati alle più recenti disposizioni sulla sicurezza e ampiamente superate. Un successo, commenta il presidente Daglielo Marfisia, conferma che il lavoro di squadra e rispetto delle regole e la cura di ogni dettaglio in nome della veridicità storica pagano sempre. La Rocca ha visto il pienone al di là di ogni rosa aspettativa in tutte e cinque le serate con un pubblico, in particolar modo i bambini, incantato dinanzi al mondo fatato che le antiche mura delle Torri Montanare hanno saputo ricreare grazie al maestro scenico Filippo Iezzi. L'associazione del Mastro Giurato ha avuto una buona risposta anche dal concorso delle dame di quartiere che ha visto l'adesione di decine di aspiranti poi scelte in otto per il corteo storico. La cerimonia dell'investitura del Mastro Giurato, con il giuramento di Gianni Orecchioni, trentaseiesimo a vestire i panni della figura medievale, ha visto sfilare lungo le vie del centro città, oltre ai quattro quartieri storici di Borgo, Civitanova, Lancianovecchio e Sacca, anche le delegazioni stranieri e italiane, al ritmo di chiarine e tamburi, per un totale di oltre 700 figuranti. In nomine Populi Anxalensis, et facultatibus ad ecurionibus uius universitatis nobis datis, nos magisters juratus, coram Deo et omnibus vobis, juramos nos anxalenses nundinas, recturos esse, et mercatute libertatem vidicaturos, firma autoritate, justis sentensi, optimo consiglio. Facimus autem ut frentanorum emporium, more maiorum, omnium regionum gentes, benigne ac liberaliter excipiat. Andiamo avanti, fino all'8 settembre a Montorio a Vomano si terrà un festival di arti in natura dal titolo La Pulce d'Acqua Dolce. Si tratta di una rassegna artistica che si svolgerà sul lungo fiume e che prevede concerti, laboratori di educazione ambientale e divulgazioni scientifiche sul tema dell'acqua. Tania Bonici Castelli. Inizia a Montorio il festival La Pulce d'Acqua Dolce, 4 giorni di spettacoli teatrali, concerti musicali e divulgazioni scientifiche per vivere il lungo fiume e il centro storico montoriese. La rassegna è promossa dall'associazione Trick Track Teatro, diretta da Valentina Nibid e Alessia Martigiani e in un momento particolarmente delicato vuole appunto restituire entusiasmo, emozione e senso di comunità alla collettività locale. Io sono l'addetta al canto perché sono una cantante. Per quanto riguarda le altre discipline ci saranno un'attrice, una pittrice e una scrittrice e anche altre attività collaterali. Però saranno tutte svolte dalla mattina fino al tardo pomeriggio e tutte atte rivolte all'evento finale dell'8 settembre. Chi potrà venire ad imparare da voi queste arti? Adulti, bambini? Sono aperte agli adulti, cioè in realtà dai 15 anni in su. Però sono aperte a tutti, professionisti del settore, artisti o anche semplici amatori, semplici sognatori. Quindi preparerete uno spettacolo che poi andrà in piazza? Sì, sarà lo spettacolo finale al quale abbiamo dato nome Esondazioni, proprio per descrivere tutto quello che ci è accaduto, sia a livello concettuale che a livello proprio sociale, il fatto che ci siamo dispersi dopo il sisma e gli eventi di gennaio. Qual è l'anima di questo festival? Il festival nasce in un periodo preciso che sta vivendo Montorio e quindi anche l'Abruzzo in generale, quindi il post-sisma. Montorio è abbastanza disabitato, diciamo, e noi con questo festival desideriamo portare innanzitutto un'energia nuova, dare vitalità e lo vogliamo fare portando gente da fuori. Secondo per noi c'è l'importanza proprio del flusso migratorio centrale per il nostro modo di concepire le cose e quindi l'energia può venire soltanto da fuori, dal mare. Noi abbiamo il fiume e quindi abbiamo pescato, in realtà abbiamo fatto un percorso a ritroso, abbiamo pescato artisti dal mare che avevano dato a noi accoglienza in questo periodo. Sarà dunque il fiume Montoriese protagonista di questo festival artistico per il prezioso ruolo che riveste per il territorio e per rafforzare l'importanza dell'acqua come risorsa e valore condiviso. A Pianella continua il progetto dell'amministrazione comunale di installazione di casette dell'acqua. Siamo davvero contenti perché la prima casetta inaugurata ha avuto un successo in queste settimane davvero straordinario, c'è una grande affluenza, un grande approvvigionamento e soprattutto portiamo avanti quello che è poi l'obiettivo vero dell'installazione di queste casette che sono di proprietà comunale, a differenza della gran parte di quelle che vediamo installate nei nostri territori, qui è il comune di Pianella grazie alla partnership con Vestina Gas ma soprattutto al bando regionale Parfas 2007-2013 che è riuscito ad acquistare le casette che poi ha dato in gestione a Vestina Gas. Questo progetto ha anche un'importante fase di divulgazione, oggi infatti premieremo i bambini della terza D che hanno realizzato questo straordinario elaborato, riceveranno un assegno premio da parte della Vestina Gas che ovviamente sarà destinato all'istituto comprensivo che ne farà un uso finalizzato all'attività didattica del prossimo anno scolastico, quindi soprattutto l'opera di divulgazione e di sensibilizzazione alle tematiche del riciclo e del rispetto dell'ambiente e di un bene straordinariamente prezioso quale l'acqua sono gli obiettivi che perseguiamo in maniera prioritaria. Ci troviamo alla seconda inaugurazione di questo progetto perché il primo eravate già presenti e era quella di Pianella, ci sarà la terza che sarà a Castellana, elogio anche il sindaco di Pianella che è stato bravo a non perdere il finanziamento, è cosa abbastanza facile oggi. Ed ora la pagina dello sport, sono ripresi ieri gli allenamenti in Casa Pescara in vista dell'anticipo di venerdì all'Adriatico Cornacchia contro il Frosinone, oggi doppia seduta per la squadra di Zeman che cerca di mettersi alle spalle gli errori costati, la sconfitta a Perugia per affrontare al meglio la forte compagine Ciociara. Nel pomeriggio ha parlato Antonio Balzano che la scorsa settimana è tornato a indossare la casacca bianca azzurra dopo aver chiuso l'esperienza a Cagliaritana. Andiamolo ad ascoltare con Andrea Costantini. Sì, da sempre c'è stata la volontà di... Sapevo che prima o poi sarei ritornata a casa, per me è un grande onore, quindi sono felice di questo e adesso bisogna mettersi sotto e cercare di fare quello che si deve. C'è sempre stato qualcosa ma mai nulla di concreto, penso che anche negli anni scorsi ogni mercato c'era torno a Balzano, torno a Balzano, però non c'è mai stato nulla di concreto, si è concretizzato tutti gli ultimi giorni perché io avevo una situazione particolare lì a Cagliari e non rientravo nei piani della società e quindi sarei dovuto andare via. Avevo diverse situazioni e naturalmente la mia volontà era maggiormente quella di tornare qui. Sì, è cambiato, spero sotto l'aspetto positivo perché comunque un po' di partite le ho fatte quindi un po' di esperienze naturalmente le acquisisci. È un ritorno a casa perché ho detto prima ho voglia di levarmi qualche sassolino dalle scarpe che ne ho messi tanti in quasi due anni. Sono qui per far vedere che ancora Antonio può dire la sua. Cioè che se non è ancora determinante, insomma questo è un po'. Esatto, che Antonio non è perché ha 31 anni è finito. Antonio ha 31 anni e ha ancora la voglia di quando aveva 20. Col mister all'inizio bisogna avere un po' di tempo per capire bene gli schemi di gioco e il modo di giocare. Quindi naturalmente io lo conosco già, di sicuro posso dare una mano parlando con tutti i ragazzi, ma vi posso garantire che tutti quanti hanno già preso la mentalità del mister perché è giusto che sia così. Ma il mister non è una persona che parla tanto. Mi ha solo salutato, come stai, mi ha fatto domande su se avevo fatto allenamento con loro, questa roba qua, roba tecnica. Poi lo guardi negli occhi che magari è felice di vederti, però non è un tipo che esprime e tutta questa felicità. Benissimo è un parolone, perché comunque purtroppo per una serie di cose non sono potuto andare in ritiro, quindi ho saltato una parte e di conseguenza mi ci vorrà naturalmente un po' per entrare in forma, ma questo non mi spaventa perché tanto col mister in forma ci entri prima o poi. In Serie C dopo il lunedì di riposo è tornato ad allenarsi il Teramo. Questo pomeriggio alle 17 allo stadio Bonolis, i biancorossi domenica scorsa hanno osservato il turno di riposo previsto dal calendario ed ora iniziano a preparare la difficile trasferta di Vicenza domenica prossima, partita in programma alle 18.30. Vicenza che è a punteggio pieno dopo aver spugnato il Braglia di Modena per 1-2 nel posticipo. Il tecnico del Teramo Asta deve monitorare le condizioni del centrocampista Amadio che ha saltato la prima gara con il Mestre a causa di un infortunio, da valutare anche i miglioramenti dell'attaccante Bacio Terracino che al menti potrebbe essere titolare. Per la gara di Vicenza è stato designato il direttore di gara Daniele De Santis della sezione di Lecce, e gli assistenti sono Lenarduzzi di Merano e Polo Grillo di Pordenone. Vediamo. Senti Antonio, facciamo un passo indietro. Ultimi secondi di gara a Portogruaro contro il Mestre, Graziano mette in avanti quella palla alla disperata, tu la vedi arrivare e cosa pensi? Appena l'ho vista arrivare di istinto me la sono portata davanti. Poi ho visto che il difensore non mi ha attaccato, ho provato a fare un altro passo in avanti e ho tirato subito senza pensare due volte. Per fortuna è andata bene. Qual è stato il tuo primo pensiero in quel momento? Il mio primo pensiero, diciamo, sono esposo in me delle emozioni grandissime, perché comunque segnare al 94esimo è un'emozione quasi indescrivibile. Sono stato contento sia per me ma soprattutto per la squadra, che comunque ha dimostrato di avere carattere, ci abbiamo provato fino alla fine. Comunque segnare al 94esimo è una soddisfazione in più. La seconda domanda d'obbligo è come stai e se sei pronto per giocare eventualmente titolare a Vicenza? Ma io sto bene, di certo non sono ancora al 100%. Speriamo che questa settimana comunque vedo se comunque la mia condizione sarà aumentata sicuramente, perché questa settimana di sosta comunque mi ha aiutato un po' negli allenamenti a ritrovare un po' di condizione. Poi vedremo in settimana, il mister comunque farà le sue valutazioni e se vedrò opportuno farmi giocare, io sono pronto. La classifica dice che andrete ad affrontare una delle capoliste del Gironi B. Sì, Vicenza è un'ottima squadra. Sappiamo che è punto a vincere, però comunque noi andremo lì a fare la nostra partita come sempre, come tutte le squadre. Ci aggiocheremo sperando di portare a casa un risultato positivo. L'intesa con Tullio e Foggia a che punto è? Ma l'intesa c'è, di certo comunque siamo all'inizio, magari pian piano aumenterà sempre di più questa intesa. Speriamo di trovarla il prima possibile al massimo, così ci troveremo bene da qui alla fine. Domanda extra di tutti i tatuaggi che hai, c'è qualcuno che ha un valore particolare, un significato specifico? Sì, diciamo che ho dei tatuaggi per la mia famiglia, sono quelli lì che più hanno significato importante per me. Infatti quando segno li dedico sempre a loro indicando i tatuaggi. In Serie D nel debutto in campionato l'Avezzano di Federico Giampaolo non è andato oltre lo 0-0 contro la Iesina allo Stadio dei Marsi. Prova comunque positiva per il calciatore biancoverde Lorenzo Bianciardi. Vediamo. Sì, sicuramente ci trattiamo a far bene dopo la sconfitta in Coppa Italia, era prima di campionato, abbiamo fatto comunque una buona partita, siamo comunque un po' ramariati del pareggio perché soprattutto verso il secondo tempo e verso la fine della partita meritavamo forse qualcosa in più, però ci prendiamo questo punto e cercheremo di far meglio le prossime partite. Sicuramente siamo all'inizio, quindi magari il mister sono solo due settimane che lavora con noi, sta cercando ancora il modulo più adatto e la quadratura che fa meglio per le nostre caratteristiche. Ma il modulo per me non cambia nulla, nel senso noi dobbiamo sempre dare il massimo, poi il mister fa le sue scelte. Certo, oggi posso dire che comunque ci siamo trovati abbastanza bene, comunque abbiamo fatto una buona partita. Magari ci è mancato l'ultimo passaggio oppure fare la scelta giusta sotto porta, però quelli sono attimi e dobbiamo migliorare anche in quello. Allora, cosa c'è da rivedere in vista della prossima partita? Ma non lo so, sicuramente continuare a lavorare tanto perché soltanto attraverso il lavoro si può migliorare e continuare a dare tanto in allenamento e fare sempre di più e cercare di giocare per la scuola il più possibile per cercare di sbloccarci. E' tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro la buona notte. Grazie per averci seguito, vi auguro la notte.